Il miglior agente dell'FBI Papà, Trent, che ci fai qua? Hai visto Cilcoff uccidere qualcuno? E lui ucciderà anche me! Sta per tornare in incognito. Ti nasconderà. Come pensi di nascondere un ragazzone come me? Ma stavolta Avrà dei rinforzi. Già, già, già! Che bimba monella, Charmaine, Daisy, Pearce? Chi? La mia pronipote. E aggiusta il tono di voce prima di spaventare qualcuno. Va bene così? Swing la... Swing! Dalla 20th Century Fox e dalla Regency Entertainment Benvenuta alla scuola di belle arte per ragazze. Ti nasconderò qui. Come va? Ci sono così tante dolci, deliziose ragazze. Martin Lawrence Lavoro qui al college, big mama. Non mi sa come maglia questo soprannome. All'aria di un carro armato. Ci sto! Capo, l'abbiamo trovato. Seguitelo. È vestito da donna. Ora so perché si chiama lo schiaccianoci. Tale padre, che il gioco abbia inizio. Mano sinistra verde. A quanto pare il verde è finito. Il tuo verde ce l'ho io. Oh, col cavolo. Tale figlio. Tu devi essere la nuova studentessa, Charmaine. Oggi faremo un ritratto del vivo. Ora si vuole lasciare cadere il luogo. Cosa ha detto? Ups! Sono bella? Big mama. Tale padre, tale figlio. Oh no! Fico! Che vergogna! Neanche indosso un paio di mutandoni puliti. Ti devo mettere al tappeto! Prossimamente al cinema.